Salve a tutti, sono Marco Casari e benvenuti a questo nuovo episodio dedicato all'analisi tecnica e fondamentale del mercato azionario. Oggi voglio prendere in esame un titolo che tengo sotto il radar da un po' e mi riferisco alla Calidus Software, che è un'azienda di palo alto che produce software per il mondo del marketing e del sales soprattutto, e vende i suoi servizi come software as a service nel cloud. Quindi è un'azienda che sicuramente si trova in un settore molto interessante. Partiamo un attimo da vedere che cosa sta facendo il grafico perché si trova in una situazione piuttosto interessante per poter considerare o avere delle idee, è quello che voglio fare io di solito con questi video, darvi delle idee, degli spunti di riflessione per poi ovviamente prendere e fare delle vostre valutazioni estremamente personali. Che cosa ha fatto il titolo? Il titolo è, vedete, ha avuto un enorme balzo in avanti nel 2013, aprile 2013, addirittura facendo un più 287% nell'arco di meno di un anno. Poi ha ritracciato un pochino, ha creato un nuovo massimo nel novembre del 2014, due anni fa, poi ha lateralizzato, vedete qui, ha lateralizzato per un periodo di tempo piuttosto lungo, guardate, vi segno adesso i massimi, anzi facciamo così, guardate, i massimi ve li segno con una linea orizzontale, ha segnato un po' questi massimi, su cui vedete che ha usato come resistenza per poi ritracciare, di nuovo resistenza, di nuovo resistenza, poi è riuscito a romperli, e qui siamo già a settembre del 2015, ha toccato i massimi storici, intorno ai 21,50, quindi ai 21,50 dollari, per poi di nuovo, questo è stato il crash d'inizio 2016, crollare, ritornare ai massimi e ritracciare. Bene, capiamo un attimo che cosa sta facendo l'azienda, perché andando a vedere gli earnings di settembre e confrontandoli con quelli precedenti, quello che vado a vedere è, in questo possiamo, da questo punto di vista possiamo farci aiutare dall'Income Statement che ci propone Yahoo Finance o Google Finance, insomma potete usare un po' il servizio che volete, da qui quello che mi sono andato ad estrapolare è che l'azienda, il 30 settembre, fine settembre, negli earnings ha rivelato un guadagno del quarter di 52,5 milioni di dollari e una net loss di 3 milioni e 95, quindi quasi 4 milioni di dollari. Comparandola all'anno scorso c'è stato un incremento importante sul guadagno, perché è passata da 44,9 milioni a 52 milioni, quindi insomma ha fatto più di 8 milioni di incremento e il net loss è aumentato da 2,20 milioni circa a 3,95 milioni del 30 settembre. L'azienda, dicevo prima, è piuttosto solida, il prezzo è anche sceso perché ad agosto uno dei director, quindi uno del management alto, ha venduto parecchie shares, quindi ha venduto molte delle sue quote in azienda, circa 350 mila dollari, quindi quando succedono queste cose ci sta che il titolo tende un po' a scendere, però, ripeto, l'azienda si trova in un settore decisamente importante e quindi andando a vedere quello che sta facendo adesso potrebbe rappresentare una buona opportunità, perché che cosa sta succedendo? Guardate, passo al giornaliero e sul giornaliero quello che vedo appunto sono queste due linee che rappresentavano, vi ricordate le strutture di cui vi parlavo prima? Questa è la struttura dei massimi e questa è una struttura che nel tempo ha rappresentato il mercato, insomma l'ha sentita molto e questo è un po' un range che possiamo disegnare, perché sì, le strutture sono delle linee ma poi non sono sempre precisissime, no? Questo infatti è il range che possiamo tenere in considerazione e il prezzo adesso sta facendo proprio questo, guardate, sta scendendo, è sceso su questa struttura, l'ha rotta, poi è rimbalzato, sta scendendo di nuovo e quindi qua c'è l'ipotesi, stavo guardando mentre vi parlavo, se c'era, si era verificato anche qualche pattern armonico, perché qui ci troviamo in una fase di un po' lateralità del mercato, no? Il mercato da agosto 2015 ad oggi, vedete, sta lateralizzando, non ha preso un trend, né rialzista né ribassista, sta lateralizzando tra i minimi a 11,50, 11,50 dollari e i massimi a 21,50 dollari. Stavo vedendo se in questa lateralizzazione si sta formando qualcosa e forse sì, qualche pattern armonico, questo succede da qui a qui, anzi, fatemi vedere da questa impulse lag, quindi da qui, quindi prendiamo un tempo minore e effettivamente sì, si sta verificando qualcosa, andiamo a vedere dove si andrà a completare, da qui a qui. C'è stato il completamento di questo bel pattern, di questo bel Gartley a 127, livello di Fibonacci, Gartley che ci dà un altro segnale rialzista, quindi qui come al solito dal punto di vista tecnico, di analisi tecnica, io quello che faccio è cercarmi sempre diversi segnali che avvalorano la mia ipotesi, quindi parto nel mercato azionario da un'ipotesi che si basa su aspetti fondamentali, quindi vado a conoscere l'azienda e i suoi risultati economici, il settore in cui opera e altri aspetti fondamentali appunto. Poi vado a vedermi il grafico e che cosa mi dice l'analisi tecnica e vado a cercare più segnali che mi permettono di avere un vantaggio statistico. Quindi qua ho un rimbalzo su una struttura di prezzo che potrebbe essere usata appunto come supporto, quindi il prezzo potrebbe prendere e salire. Ho un pattern armonico rialzista che è stato completato su questo livello e che mi dà un altro segnale rialzista. Ho la parte fondamentale, di analisi fondamentale, che mi dice che comunque l'azienda ha possibilità di rialzarsi. Mettendo insieme tutti questi segnali avvaloro, quindi aumento le probabilità dell'ipotesi rialzista che ho su questa azienda. Poi ovviamente si può operare con vari strumenti finanziari, si può decidere di entrare direttamente nell'acquisto dei titoli, si può entrare con delle opzioni. Io quello che valuterei comunque è un ingresso con un'ipotesi che il prezzo possa andare a ritracciare dove? Sui massimi storici, oppure anche su questi valori qua, quindi intorno tra i 19 e i 20 dollari. Per avere un incremento, immaginate di entrare adesso, stiamo parlando di un incremento del 20% del titolo. Se poi questo aumento di prezzo ce lo avrà anche in maniera esplosiva, le opzioni diventano lo strumento perfetto, anche per limitare i margini richiesti sul capitale, lo strumento perfetto. Quindi si potrebbe pensare ad un'opzione o in vendita, quindi una sell put intorno ai 14,50 dollari, o si potrebbe pensare ad una call comprata intorno ai 16,50 dollari, con ovviamente scadenza più lunga. Bene, come al solito voglio solo fornirvi delle idee, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, grazie mille per l'attenzione e buon trading, ciao! Grazie a tutti!